Analizziamo il comportamento del motore asincrono trifase e andiamo a disegnarne il diagramma vettoriale delle tensioni e delle correnti. Partiamo dal rottore, quindi la parte destra del circuito equivalente. L'impedenza presente nella maglia rotorica, la Z2, è data dalla serie dei tre componenti presenti nel circuito equivalente, quindi abbiamo una parte resistiva data dalla somma della resistenza degli avvolgimenti R2, più la resistenza che tiene conto del carico meccanico R2 per 1 meno S fratto S e la parte reattiva, quindi più JX2D, dove abbiamo la reattanza di dispersione degli avvolgimenti rottorici. Sommando le parti reali abbiamo R2 fratto S e la parte immaginaria, la reattanza JX2D. La corrente I2 nel rottore, quindi per la legge di Ohm generalizzata, sarà data dal rapporto fra la tensione indotta al rottore bloccato, la E con 0,2, e l'impedenza della maglia rottorica appena scritta Z2. Quindi, se andiamo a sviluppare, esplicitando l'impedenza, abbiamo a numeratore sempre la tensione indotta, E02, e a denominatore abbiamo R2 fratto S più JX2D. Quindi, nel rapporto di numeri complessi, mi darà una corrente con un suo valore efficace e una sua fase che determinerà uno sfasamento rispetto alla tensione indotta, uguale all'angolo caratteristico dell'impedenza del circuito rottorico. Quindi, possiamo iniziare a disegnare il diagramma vettoriale relativo al rottore. Disegniamo il piano di Gauss, quindi gli assi reale e immaginario. Partiamo, come quasi sempre si fa con le macchine elettriche, dall'individuazione sul diagramma vettoriale del flusso, che scegliamo per semplicità a fase 0, da questa scelta del flusso discende l'angolo delle tensioni indotte, che saranno poste a 90 gradi dal flusso in anticipo, la E02, che quindi si trova sull'asse immaginario. La corrente I2, abbiamo detto che è caratterizzata da un angolo Φ2, che supponiamo di aver determinato conoscendo l'impedenza equivalente del circuito rottorico, e quindi sarà uguale alla, abbiamo detto, all'angolo caratteristico dell'impedenza rottorica, quindi, se sviluppiamo l'espressione, avremo questo arco tangente di Sx2D fratto R2, e questo rappresenta l'angolo di sfasamento tra la tensione E con 0,2 e la corrente I2. La FI2, quindi vi ricordo, l'abbiamo identificata come l'angolo di sfasamento tra tensione indotta a rotore bloccate con 0,2 e la I2, quindi non come angolo, come fase della corrente I2, che sarebbe misurata rispetto all'asse dei reali, ma lo individuiamo proprio come angolo di sfasamento con la tensione, ed è uguale all'impedenza, all'angolo caratteristico dell'impedenza del rotore. A questo punto, il diagramma vettoriale è completo per quanto riguarda le grandezze rottoriche. Quindi adesso concentriamoci, torniamo indietro nel nostro circuito equivalente, e troviamo il componente centrale che rappresenta il trasformatore ideale, che sta a rappresentare le relazioni magnetiche fra statore e rotore, quindi l'accoppiamento elettromagnetico fra circuito statorico e circuito rotorico. l'elemento centrale, quindi un trasformatore ideale, in quanto le non-idealità sono state condensate, diciamo così, sono rappresentate dagli altri componenti presenti nel circuito equivalente. Quindi, come tutti i trasformatori ideali, abbiamo che le potenze entranti al primario, quindi in questo caso dalla parte dello statore, e la potenza uscente al secondario, dalla parte del rotore, devono essere uguali. Quindi, abbiamo che, questo per quanto riguarda l'energia, il campo magnetico, quindi il prodotto della tensione indotta E1 per la corrente che attraversa il trasformatore al primario, la I con 2'', deve essere uguale al prodotto della tensione indotta al secondario per la corrente al secondario. Quindi, abbiamo ricavando la corrente al primario, che rappresenta la corrente di reazione, statorica, questo è uguale alla corrente al rotore, diviso il rapporto di trasformazione al rotore bloccato, dato dal rapporto fra la tensione al primario, E1, e la tensione indotta al rotore bloccato, E0,2. E quindi, il K0, indicato nella formula, rappresenta appunto il rapporto di trasformazione al rotore bloccato. Questa relazione scalare vale anche vettorialmente, quindi le due correnti, i due primo e i due, risultano essere in fase fra di loro. Questa relazione, quindi, ci consente di ripartire dal diagramma vettoriale appena disegnato al rotore, riportando sullo stesso diagramma in fase con la corrente I2, la corrente di reazione statorica, la I2, primo, che quindi disegniamo in fase con le I2, quindi sulla stessa direttrice sovrapposta, supponiamola di valore efficace più basso, quindi con un rapporto di trasformazione K0 al rotore bloccato maggiore di 1, e quindi la disegniamo sulla stessa direttrice. Questo ci consentirà di darci un punto di riferimento per il disegno del diagramma vettoriale del lato statorico. Quindi spostiamoci allo statore. Dal lato dello statore abbiamo, intanto incontriamo i componenti trasversali G0 e B0, che rappresentano le perdite nel ferro e l'energia necessaria per la magnetizzazione, quindi abbiamo la conduttanza G0, che rappresenta le perdite nel ferro, nella quale scorre la corrente che chiamiamo IA, e la suscettanza di magnetizzazione B0, nella quale scorre la corrente di magnetizzazione Mu0, la Imu, responsabile della creazione del campo magnetico rottante, quindi la corrente a vuoto, la I0, caratteristica dei componenti trasversali, sarà data, per l'equazione Kirchhoff al nodo, dalla somma della IA e della Imu, cioè delle due componenti rappresentative delle perdite nel ferro e della creazione del campo magnetico. Per quanto riguarda la IA, abbiamo che è quella che scorre nella conduttanza G0, quindi per la legge di Ohm generalizzata, la IA sarà data dal prodotto della tensione ai capi di G0, che equivale, che corrisponde alla tensione indotta agli avvolgimenti statorici, moltiplicata per la conduttanza G0, ovviamente la I1 vettoriale, la G0, come tutte le conduttanze, è un numero reale puro, quindi la IA sarà in fase con la I1. La corrente di magnetizzazione Imu sarà analogamente data dal prodotto, sempre per la legge di Ohm generalizzata, dal prodotto della tensione E1 per la suscettanza di magnetizzazione B0, che in termini vettoriali è meno J B0, quindi la Imu sarà uguale a meno J E1 moltiplicato B0, quindi risulterà essere un vettore sfasato di 90 gradi in ritardo rispetto alla E1 per la presenza del fattore complesso meno J. Adesso disegniamo questa parte di diagramma vettoriale, disegniamola a parte rispetto al circuito rottorico per rendere più leggibile il diagramma, quindi ridisegniamo il piano di Gauss, riportiamo la tensione E1 che sarà in fase con la tensione E0, quindi angolo di 90 gradi, questo sempre discende dalla scelta del flusso iniziale, disegniamola IA che sarà in fase con la tensione E1, quindi la IA, la corrente assorbita per rappresentare le perdite nel ferro, sarà in fase con la E1, quindi sull'asse immaginario puro, la Iμ invece, abbiamo detto che per la presenza del coefficiente meno J, sarà in ritardo di 90 gradi rispetto alla E1, quindi si troverà sull'asse dei reali, e la corrente I0, che è data dalla somma dei due vettori per l'equazione di Kirchhoff al nodo, la otteniamo per la costruzione vettoriale della somma, quindi il rettangolo formato dalle due componenti IA e Iμ, la risultante sarà la corrente a vuoto I0, che sarà caratterizzata dalla sua fase FI0. Abbiamo quindi tenuto conto dei componenti trasversali, continuiamo nella nostra analisi, esportiamoci, diciamo, verso l'alimentazione, quindi verso la tensione V1F, che è la considerazione della maglia che sto indicando, quindi la maglia che comprende l'alimentazione, i componenti longitudinali R1, X1, D, e la tensione indotta sugli avvolgimenti statorici E1. Per questa maglia possiamo ovviamente scrivere l'equazione di Kirchhoff, che ci darà le relazioni vettoriali fra le varie tensioni, indichiamo le tensioni ai capi dei due componenti, la Vr1 e la Vx1, chiamiamo quella ai capi della reattanza di dispersione X1D, quindi possiamo a questo punto scrivere l'equazione di Kirchhoff alla maglia. Abbiamo che la tensione di alimentazione V1F, ricordiamoci, è una tensione di fase, è data dalla somma vettoriale della caduta di tensione sulla resistenza degli avvolgimenti statori CR1, sulla caduta di tensione devuta alla reattanza di dispersione X1D e alla somma con la tensione indotta sugli avvolgimenti statorici. Per quanto riguarda la Vr1, questa sarà data ovviamente da R1 per la corrente I1 che scorre nella stessa resistenza, quindi la Vr1 sarà in fase con la I1, come sempre succede in una resistenza, mentre invece la Vx1 sarà data dal prodotto Jx1D, l'impedenza della reattanza di dispersione moltiplicata per la corrente I1 e quindi sarà in anticipo la Vx1I di 90 gradi rispetto alla I1 per la presenza del prodotto per il coefficiente immaginario puro J. queste relazioni ci consentiranno di disegnare il diagramma vettoriale. Quindi noi abbiamo già visto la I0, la corrente dei componenti trasversali, riportiamo anche la I2' sulla stessa parte di diagramma che è la corrente di reazione statorica, la somma vettoriale di queste due correnti, abbiamo detto che è la corrente assorbita dall'alimentazione I1, la somma vettoriale perché abbiamo l'equazione al nodo di Kirchhoff, quindi componiamo vettorialmente i due vettori, I0 e I2' e otteniamo la corrente I1. Questo vettore I1 ci servirà a questo punto per poter proseguire nel disegno delle altre tensioni presenti nella maglia statorica. anche in questo caso ridisegniamo il piano di Gauss per alleggerire il disegno e evitare confusioni riportando soltanto le grandezze che a questo punto ci interessano ancora. Quindi ripartiamo dalla I1, tensione indotta sugli avvolgimenti statorici, fase 90 gradi, riportiamo la corrente I1, adesso non rispettiamo le stesse scale per ridurre un po' le dimensioni del disegno, quindi la I1 con l'angolo, con la sua fase determinata nel diagramma appena fatto superiore che stiamo guardando, e adesso andiamo a disegnare le due cadute di tensione sui componenti longitudinali, la Vr1 e la Vx1. Riscriviamole per averle sott'occhio. Vr1, quindi dato dal prodotto di R1 per I1, quindi una tensione, vedete, in fase con la corrente I1 essendo R1 un numero reale puro come tutte le resistenze, quindi Vr1 in fase con la I1, quindi si tratterà di un vettore che già c'è sulla stessa direttrice di E1, quindi con lo stesso fase di E1 riportiamolo però dove finisce E1 perché ci servirà per comporre la somma vettoriale, quindi la Vr1 in fase con la I1 la disegniamo a partire da dove termina la tensione I1. Passiamo alla Vx1 sulla rettanza di dispersione, la Vx1 e abbiamo detto che è sfasata in anticipo di 90 gradi sulla I1 perché è ottenuta, vedete, moltiplicando per un numero immaginario puro Jx1D la corrente vettoriale I1, il vettore I1, quindi questo prodotto mi dà un vettore sfasato di 90 gradi in anticipo che quindi avrà, sarà perpendicolare alla I1, quindi a questa direzione, anche lui disegniamola a partire da dove terminava la Vr1 in modo da comporre la somma vettoriale che viene descritta dall'equazione di Kirchhoff alla maglia statorica che qui riscrivo, quindi dove abbiamo la tensione di fase di alimentazione V1f data dalla somma dei tre vettori Vr1, Vx1 e E1. Questa somma vettoriale giustifica il fatto che i tre vettori nel diagramma li abbiamo disegnati uno a partire dalla fine dell'altro, quindi la V1f sarà data dalla composizione vettoriale dei tre vettori componenti e quindi sarà caratterizzata da questo angolo e da questo modulo. Adesso l'angolo di sfasamento che è presente nel diagramma fra la tensione di alimentazione e la corrente assorbita dall'alimentazione stessa rappresenta il fattore di potenza del nostro motore asincrono come carico elettrico rispetto all'alimentazione. Quindi il coseno di FI1 rappresenta il fattore di potenza del motore che poi non sarà altro ovviamente che l'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente di tutto il circuito equivalente del motore quindi questo lo mettiamo in evidenza e lo ricordiamo quindi lo sfasamento fra tensione di alimentazione e corrente assorbita dall'alimentazione stessa rappresenta il fattore di potenza del carico.